Un parecchie occasioni, almeno quelle del padre, scuole, teatri, insomma, quindi volevo leggere una poesia che si chiama A.J., semplicemente, quando la poesia si fa al corpo ed è vita vera, vita viva, si agita ed il corpo si addolcisce, spalanca le braccia, urla amore e rabbia, ogni verso sento un bel ribellione, paladino del verde, del nero, del rosso, con un paio di scarpe e una borsa per portare il mondo, la braccia, più spesso lo rimprovera per le miserie sorprose, e lo vedo che afferra a volte, con fedico un posto, uno qualunque, purché dalla poesia abitato, diventa ancora più intenso quelli che amo e si rischiara intorno a noi, cogliendosi su tutti gli occhi e nelle grandi mani, le tue mani calde, vive e calmose, le sento ancora sin dalla prima volta, non per distanza che possa separarci, né altre, quei tanti che hai bracciato in ogni parte della terra, che è tua tutta, perché è tua attura, ancora ti contiene e conderla per sempre. Grazie. 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 Grazie.